Lo spiegare non ti ho visto il prelievo No, l'ho fatto giovedì il prelievo Era giovedì No, era venerdì, sì No, l'ho fatto a Nettuno Alle otto e mezza di mattina Cioè, l'età media che ho visto era 96 anni più L'età mia, quindi Sì C'era un vecchio poraccio, stava tutto così Stava tutto un goblinito così Guardava per terra tutto l'ercio Io ho fatto, oh, come cazzo stai, brother? Favano là, dai, otto, fanciate un cazzo da fa' Done, grazie del sub Ma questi che scrivono? Lingue, lingue ostrogote Che stanno coverando lì? La fregna? Niente, a Raz buia me È impossibile Tirare un autoattacco Ho doppio scudo, sei goto Devo riguardarmi a max alla doppia V È questa la live for fun Buona, sì For fun, sempre for fun siamo Ho messo la world challenge La grande world Deve messo Bobbi, 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 bobbi Comunque lo nerferanno sicuro il cavallo Non c'è Non c'è La grande world Professione Communication Não c'è Il Ma Lo Questa Lala Sett Commander Non mi è partita la E Ma che fa? Sì, no, vabbè, si maxa prima la Q, la W per seconda Mi pare che questo coglione gioca con il bomb planting Grazie, Jots Sì, no, la W sta perso tipo 8 livelli Sì, no, la W per seconda Vaffanculo, c'è la cazzo di cosa Sì, no, la W per seconda Sì, no, la W per seconda Oh, Dio mio, che palle Popo da popo, popo You have no mana No, la W per seconda Non mi è invaso Oh, no, la W per seconda Oh, no, la W per seconda Oh, no, la W per seconda Zitto, cane, sei un miserabile Porco Dio, ho maxato la E, porco Dio Oh, no, la W per seconda Oh, no, la W per seconda Windblazer Windblazer, come si diverte Ma scelta me, parco Dio Oh, no, la W per seconda Oh, no, la W per seconda Oh, no, la W per seconda Complimentoni Quindish Nice Nice Combo Più, cane Vinzate, cazzo del sub Oh, no, la W per seconda Vedi che se me fucuri Ma che ti ganko e mi sciotta Sei mostruoso Sei mostruoso Sei un mostro Sei il mostro di Babelis Dio che ane Let me gank Io ne 20% HP Andrà sicuramente alla grande Dai 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 Abbiamo questo Cazzo di mostro Mostruosa Mostruosità mostruosa Ah il cavallo pazzo è in uno stato Di furia Follo grazie del sal Spammatelo se potete Eh astro broken al momento Poi con sta build Che se fa strana Eh broken Ma io lo devo provare top Ancora Voglio provarlo top Deve essere tipo crazy Cala molto Non troppo C'è un bel mid game C'è un bel mid game C'è un bel mid game Spassos Spassos Windblazer Mortal Reminder T-Shot Capito Stava 8-2 Questa Parcoddio Ai 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 Aspettiamo i soldi Per il Black Leaver Dove avevo costato C'è una cazzo di 27 Perché Black Leaver Se è billa così Passiamo a scelta Brava Che mi ulti Eeeh Eeeh la bombetta che ti segue la grande bombetta che ti segue la bombetta just 5v5 80 cs 6v 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 7v 7v 8v 9v 9v 10v 11v 11v 12v 13v 14v 14v 15v 14v No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah questo c'ha 4 item Windblazer VakGJ 90 CS 23 minuti Un talento della mid lane Un grandissimo talento della mid Poi c'ha Zillian dietro Porco dio Qua serve un bel game next Altro che Non c'è monato Sta facendo questo Ma Rengar Loro dove cazzo è Ma perché si avvicina con la bomba Dio porco Cosa mi sono rotto il cazzo Beh abbiamo fatto usare la ultima Olè Che comunque c'hanno un af Che non c'hanno il coglione Enemy 4 kill Via Sì no c'hanno Rengar Havk Eka Go Frozen Harta Aatrox Go Aatrox Go build Enz Vedete Top Oddio porco Della madonna Ladrona Bue Sì and server A shareholders Sì and Possiamo evitare di fare il loro La partita di Okane Oh qui sono da ingaggiare Ma che fa? Che fa? Che fanno? Più ha una catena Porco Dio Ok Io nel coglione No venga Azzurto e ci ammazza tutti Perché questo deve cesare quella peppa Rengar sta tiltato il brother Tiltato dalla jungle gap Aatrox frozen harta Capito Parlando un po' di ostrogoto ancora Serve pure antia Le loro segura stecca New Korean challenge era Adesso che sta a fare? Adesso che sta a fare? Fa tutto zuku zuku mi sa il brother Io ne splitta Grazie a tutti Ok Ah 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 Ah